Finisce 0-0 il match playoff tra Foggia e Teramo, che continuano così ad andare avanti a Braccetto in classifica. Davvero poche però le emozioni allo zaccheria. Paci conferma in blocco la formazione che ha battuto il Bari nell'ultimo turno di campionato, con Pinza Uti in avanti ancora a comporre il tridente con Bombaggi e Costa Ferreira. Nel Foggia di Marchionni c'è invece Anelli a prendere il posto in difesa dello squalificato Germinio. Si inizia a buoni ritmi e con il Foggia che mette in mostra quanto ami le ripartenze e l'attacco alla profondità. In casa Teramo però si concede poco e per i primi 20 minuti si registra sostanzialmente solo una grande attenzione da una parte e dall'altra. Non che vada meglio nel prosieguo tra errori tecnici e paura di scoprirsi. Se si pensa infatti che per la prima mezz'ora abbondante gli unici tentativi verso lo specchio della porta sono il tiro molto debole di Curcio al 32esimo e quello dalla distanza di Arrigoni al 36esimo che finisce fuori, è facile comprendere quanto la prima frazione sia di fatto avara di emozioni. Facendo uno sforzo è da registrare il tentativo di qualche minuto dopo Didi Enno servito in appoggio da D'Andrea che finisce molto lontano dallo specchio seppur il centrocampista da buona posizione. L'occasione potenzialmente migliore per il Teramo la costruisce per certi versi il Foggia che si complica la vita in disimpegno al 41esimo ma Costa Ferreira chiude troppo il destro e manda a lato. Il diavolo rischia prima di rientrare negli spogliatoi quando Vittorini fa venire i brividi a Lewandowski girando di testa in calcio d'angolo una punizione del Foggia. La ripresa inizia con la capocciata di Pinzauti che gira in una punizione dalla destra di Costa Ferreira trovando però Fumagalli pronto a fermare il pallone. La gara poi torna lungo i binari della noia e dal quarto d'ora il Teramo perde Mungo per un problema alla caviglia destra. Al suo posto entra Ilari. Uno spento curcio lo segue poco dopo lasciando il campo a Vitale con D'Andrea che avanza in attacco. Non riuscendo a sbloccare la gara prima Ilari al 17esimo e poi Bombaggi 5 minuti più tardi provano in vano da fuori aria. Gli animi si scaldano alla mezz'ora dopo un faccia a faccia tra Bombaggi e Galeota Fiore con Paci da una parte e Marchioni dall'altra a raffreddare gli animi. K è l'ultima carta che Paci sceglie di giocarsi dopo Ilari e Gerbi e proprio dall'ex Roma parte il cross che Costa Ferrera, in pieno recupero, tocca per Ilari che mette in gol ma il primo assistente segnala la posizione di fuorigioco ed il direttore di gara annulla così quello che sarebbe stato il gol vittoria per i biancorossi. Il Teramo dà comunque continuità alla vittoria contro il Bari. Domenica al Bonolis arriverà il Monopoli.